Discovering Fano alla scoperta di Vitruvio è il nome del progetto culturale organizzato dal comune di Fano grazie a un'idea di EgoFilm. Discovering Fano nasce dal dopo aver girato il documentario Fano Fortuni alla scoperta di Vitruvio nasce come approfondimento a come dire ad una realtà della nostra identità cittadina quindi ecco un'iniziativa che nasce soprattutto per scopo didattico divulgativo e culturale. Il progetto prevede lo svolgimento di due itinerari archeologici sulla Romanità di Fano in quattro date che nel mese di agosto come ultima tappa vedranno come protagonista la Mediateca Montanari con la proiezione del docufilm Fanum Fortunae e una pericena a tema di Vitruvio. Tutti i giovedì fate eccezione quello di Ferragosto del mese di agosto 2019 quindi sono 1, 8, 22 e 29 con partenza dall'arco di Augusto alle ore 18. La prenotazione è obbligatoria. Alteneremo i percorsi quindi faremo un percorso l'1 e il 22 legato a quelli che sono i luoghi del docufilm tra cui la bellissima sala dei globi della biblioteca federiciana. Al contrario nelle date dell'8 e del 29 faremo un percorso più archeologico più legato alla figura di Vitruvio. Le partecipazioni alle serate hanno un costo complessivo di 20 euro per adulti e di 6 per bambini a copertura dei costi della visita guidata e della pericena. Attenzione particolare rivolta dal comune di Fano che ha dato il patrocinio all'iniziativa. E questi sono degli eventi che confermano anche la voglia di riscoprire la città romana. Sono degli eventi interessanti che uniscono oltre alla visita guidata la proiezione del film e un aperitivo estivo quindi un bei giovedì sera per tutti i turisti anche per i fanesi.